Capitolo VI Quando venne l'estate e la vendita al solito ne soffrì, un vento di terrore spirò per tutto il paradiso delle signore. Era il panico di essere mandati via, perché la direzione si disfaceva degli impiegati quando i clienti, col caldo di luglio e agosto, non si facevano vedere. Mure, tutte le mattine, mentre faceva con Bordoncle la sua ispezione, tirava da parte i capi reparto che l'inverno, perché la vendita non ne soffrisse, aveva spinto a prendere più commessi del necessario, per poi fare una scelta in seguito. Ed ora si trattava di diminuire le spese mandandone via un buon terzo, tutti i deboli che si lasciano mangiare dai forti. «Via, via!» diceva lui. «Quelli che non sanno fare, non li dovete tenere. Non si può mica tenerli lì a non far nulla con le mani in mano». E se il capo esitava, non sapendo chi sacrificare, «Fate quel che volete, ma sei commessi vi devono bastare. A ottobre li ripiglierete. Ce n'è sempre tanti per le strade». Ma era Bordoncle che si incaricava delle sentenze. Diceva il suo terribile «Alla cassa! Alla cassa!» che dalle labbra sottili cadeva come un colpo di scure. Ogni pretesto per mandar via gli era buono. Inventava colpe, stava attento alle più piccole negligenze. «Eravate a sedere? Alla cassa! Non vi siete fatto lustrare le scarpe? Alla cassa!» E anche i più bravi tremavano a quella strage. Poi, non sembrandogli di fare abbastanza in fretta, aveva immaginato un laccio col quale strangolare quanti commessi aveva deciso di levarsi dai piedi. Alle otto si metteva all'entrata con l'orologio in mano e chi arrivava scalmanato con tre minuti di ritardo aveva l'accoglienza ad un «Alla cassa! Alla cassa!». In quel modo faceva presto e bene. «Non si sa come siete fatto voi!» giunse un giorno a dire a un disgraziato che gli dava noia col suo naso un po' storto. «Alla cassa! Alla cassa!». I favoriti avevano quindici giorni di vacanza, senza stipendio. Così più umanamente si diminuivano le spese. Del resto, i commessi vinti dalla necessità e dall'abitudine accettavano di essere assunti in quel modo provvisoriamente. Fin da quando giungevano a Parigi, andavano di qua e di là, cominciando il loro tirocinio a destra, terminando a sinistra, mandati via o andando via da sé da un momento all'altro, secondo il tornaconto. Quando non c'è lavoro per la fabbrica, si sa, non c'è pane per gli operai, questo faceva parte del meccanismo impassibile. Quel che è inutile si butta via come una ruota di ferro per cui nessuno ha gratitudine dei servizi fatti. Tanto peggio per chi non sa vivere. I reparti ora non parlavano d'altro. Ogni giorno c'era una notizia nuova. I nomi dei commessi licenziati correvano, come si contano i morti durante un'epidemia. Gli scialli e le lane furono quelli percossi più duramente. In una settimana se ne andarono sette commessi. Poi toccò alla biancheria, dove una signora che si era sentita male accusò la ragazza che la serviva ad aver mangiato aglio. La ragazza fu mandata via su due piedi, per quanto, nutrita poco e sempre affamata, si contentasse di rosicchiare al banco un'intera provvissa di croste di pane. La direzione si mostrava senza pietà, ad ogni minima la mentela delle clienti. Non c'erano scuse possibili. L'impiegato doveva aver torto e sparire come uno strumento guasto che nuoce al buon andamento della vendita. I compagni piegavano il capo e non tentavano nemmeno di prenderne le difese. In quel terrore ciascuno tremava per sé. Mignot, un giorno che usciva con un pacco sotto il soprabito, contro ciò che prescriveva il regolamento, fu sul punto di essere sorpreso e credette di venire gettato sull'astrico da un momento all'altro. Lienhard, del quale era celebre la pigrizia, dovette al posto che suo padre aveva la grazia di non essere messo alla porta, una volta che Bordoncle lo sorpresa a sonnecchiare il ritto su due mucchi di velluti inglesi. Ma i l'homme erano i più preoccupati di tutti, aspettandosi ogni mattina che fosse licenziato il loro alber. Di come teneva la cassa, nessuno poteva essere contento. Aveva sempre lì delle donne a distrarlo. E Madame Aurelie dovette intenerire la direzione, e per due volte. Denise, intanto, in quella furia di licenziamenti, era tanto minacciata che viveva aspettandosi continuamente una catastrofe. Aveva un bel farsi coraggio e combattere con tutta la sua serenità e tutta la sua ragione per non cedere agli assalti della sua indole troppo sensibile. Le lacrime la cecavano non appena aveva chiuso la porta della sua stanza, e già si vedeva in mezzo alla strada, irrotta con lo zio, senza saper dove andare, senza un soldo da parte, e coi due ragazzi per giunta. Ritornava alla situazione delle prime settimane. Le sembrava di essere un granello di miglio sotto una grande macina, e quel sentirsi così meschina in quella macchina che l'avrebbe schiacciata con la sua tranquilla indifferenza le dava uno scoraggiamento da non dirsi. Non c'era da farsi illusioni. Se mandavano via qualcuna dall'abbigliamento, sarebbe stata lei. Nella scampagnata Rambouillet, le ragazze dovevano aver certamente messa su Madame Aurelie contro di lei, perché da quel giorno la trattava con una severità non senza un po' di rancore. E poi non le perdonavano la sua gitarella Joanville. Ci vedevano una ribellione, quasi una sfida a tutto il reparto, in quell'essere andata con una del reparto nemico. Denise non aveva mai sofferto tanto come allora, ed isperava ormai di farsi amiche le compagne. «Lasciatele fare», ripeteva Pauline. «Sono delle smorfiose che in fondo sono più stupide d'un'oca». Ma erano appunto quelle maniere da signore che intimidivano la fanciulla. Quasi tutte le ragazze, per via del loro quotidiano strofinarsi con le clienti ricche, diventavano alla fine d'un ceto senza nome, indeterminato, che stava tra l'operaio e il borghese. E sotto la loro arte di vestirsi, sotto i modi e le frasi prese a prestito, non c'era che un'istruzione falsa, la lettura dei giornaletti, qualche tirata di dramma e tutte le sciocchezze che correvano per Parigi. «Sapete, la sciattona ha un figlio», disse una mattina Claire appena arrivata. E vedendo la meraviglia delle altre, «l'ho veduta io ieri sera che se lo trascinava dietro. Lo deve nascondere in qualche posto». Due giorni dopo, Marguerì, tornando dal posto, diede un'altra notizia. «Bel lavoro! Ho visto l'amante della sciattona! Figuratevi, un operaio! Già, un ragazzaccio tutto sudicio, con certi capelli gialli che guardava attraverso i vetri». Bastò perché tutte ne fossero sicure. Denise aveva per amante un manovale e nascondeva un figlio nel quartiere. La flagellarono con maligne allusioni. La prima volta che capì diventò pallida davanti alla mostruosità delle loro supposizioni. Era un'infame calunnia. Vole dare una spiegazione e balbettò «Ma se sono i miei fratelli!» «Già, i fratelli», disse Claire canzonandola. Bisognò che madame Aurelì ci mettesse bocca. «Zitta un po'!» «Fareste meglio a cambiare quei cartellini, mademoiselle Denise. È padrona di comportarsi male fuori di qui. Basterebbe che qui lavorasse». E quella secca difesa era un'accusa. La giovanetta, sentendosi mancare il respiro come se l'avessero accusata ad un delitto, cercò vanamente di spiegare come stavano le cose. Si mettevano a ridere e alzavano le spalle. E lei ne era ferita al cuore. Deloche, quando quella voce si sparse, fu sdegnato al punto che voleva pigliare a schiaffi tutte le ragazze dell'abbigliamento. E fu trattenuto solo dalla paura di compromettersi. Fin dalla serata di Joanville aveva per lei un amore devoto, un'amicizia quasi religiosa, che l'attestava con occhiate da cagnolino fedele. Nessuno doveva sospettare la loro amicizia, perché Dio sa quanto ne avrebbero riso. Ma ciò non gli impediva di fantasticare improvvise violenze, dei gran pugni vendicatori, se mai ne avessero sparlato in sua presenza. Denise finì col non rispondere più. Ci soffriva troppo, e le pareva che nessuno potesse credere a quelle infamie. Quando una compagna gettava una nuova allusione, si accontentava di guardarla fissa con un'aria triste e calma. E poi aveva altri pensieri. Il bisogno del denaro che le dava anche più pena. Jeanne non era mai contento, e ne faceva sempre delle sue. Non passavano due o tre settimane senza che ricevesse da lui un intero romanzetto in quattro pagine, e allorché il postino del negozio le consegnava quelle lettere, con una grossa calligrafia da cui traspariva la passione. Si affrettava a nasconderla in tasca, perché le ragazze si sforzavano di ridere canticchiando parole insolenti. E, quando con un pretesto era andata in fondo al magazzino per aprire la lettera, veniva presa dal terrore. Quello sciagurato di Jeanne le pareva belle e perduto. Ogni bugia era buona per lei, ogni storia d'amore più inverosimile, di cui la sua ignoranza di tali affari le raffigurava anche maggiori pericoli. Ora si trattava di due franchi per sfuggire alla gelosia di una donna. Ora di cinque o di sei per salvare l'onore di una povera ragazza che il padre voleva ammazzare. Non bastandole lo stipendio e la percentuale, aveva avuta l'idea di cercare un po' di lavoro fuori dal magazzino. Ne aveva parlato Robino, che le era stato simpatico fin da quando l'aveva incontrato da Vensard, e lui le aveva trovato da fare delle cravattine a venticinque centesimi la dozzina. La notte, dalle nove a luna, ne poteva cucire sei dozzine e guadagnare così un franco e mezzo meno i quattro soldi del lume. Ma quel franco e trenta al giorno ci voleva per il mantenimento di Jeanne, e lei non si lamentava di dormire poco. Si sarebbe anzi detta felice se non le fosse cascata addosso un'altra disgrazia. Alla fine della seconda quindicina, quando si presentò alla donna che le dava da fare le cravate, trovò la porta chiusa. C'era stato un fallimento, e lei aveva perduto diciannove franchi, somma considerevole sulla quale contava da otto giorni. Che erano gli scherni del reparto di fronte a quella rovina? Siete seria, le disse Pauline che la incontrò pallidissima nella galleria della mobilia. Avete bisogno di qualcosa? Perché non me lo dite? Ma Denise le doveva già dieci franchi, e rispose sforzandosi di sorridere, no grazie, ho dormito male. Era il 20 di luglio, proprio il momento della paura degli impiegati. Su 400, Bordoncle ne aveva già mandati via più di 50, e correva la voce che ne avrebbero licenziati degli altri. Ma lei a quelle minacce non ci pensava più, angosciata da una nuova scappata di Jeanne più terribile delle altre. Questa volta aveva bisogno di 15 franchi. Gli ci volevano per salvarlo dalla vendetta ad un marito messo in mezzo. Il giorno prima aveva ricevuto una lettera che annunciava il dramma. Dopo ne erano giunte altre due. Nell'ultima, che stava finendo di leggere, quando si era imbattuto in Pauline, Jeanne le scriveva che si sarebbe ammazzato la sera stessa se non gli avesse mandato i 15 franchi. Denise non sapeva dove sbattere la testa. Dalla pensione di Pepe non poteva prenderli, perché l'aveva già pagata da due giorni. Tutte le sfortune la perseguitavano. Aveva sperato di riavere i suoi 19 franchi rivolgendosi a Robineau, che forse poteva ritrovare la donna delle cravate, ma Robineau aveva avuto un permesso di due settimane e non era tornato il giorno precedente come doveva. Pauline seguitava a farle domande da amica. Quando erano così insieme, in fondo a un reparto fuori mano, parlavano senza paura. Ma a un tratto Pauline fece come per scappare. Aveva scorto la cravatta bianca ad un ispettore che veniva dagli scialli. «No, no, è Jouvet», mormorò facendosi animo. «Non so quel che abbia quel vecchio. Tutte le volte che ci vede insieme si mette a ridere. Se fossi in voi avrei paura. È troppo gentile con voi. Gran vecchiaccio maligno che è quell'uomo. Crede sempre di parlare ai suoi soldati». Jouvet era veramente odiato da tutti i commessi per la severità della sua sorveglianza. Più della metà dei licenziamenti era fatta per colpa dei suoi rapporti. Il suo nasone, rosso da vecchio capitano buontempone, s'arricciava dovunque tranne nei reparti dove stavano le donne. «Perché dovrei aver paura?», domandò Denise. «Toh!», rispose Pauline ridendo. «Vorrà forse essere ricompensato. Sono parecchie che se lo tengono caro!». Jouvet aveva tirato dritto fingendo di non vederle, e lo sentirono che piombava addosso a un disgraziato nel reparto delle trine, perché stava guardando un cavallo caduto in rue Neuf-Saint-Agustin. «A proposito», riprese Pauline. «Non cercavate Robino ieri sera? Credo che sia tornato. Grazie. Allora faccio il giro e passo dalle sete. Peggio per loro. M'hanno mandata al laboratorio per un certo spillone. Si separarono, e la ragazza, sconvolta come se corresse da una cassa all'altra a correggere uno sbaglio fatto, prese la scala e scese alle sete. Mancava un quarto alle dieci. Era suonata già la campanella per la prima tavolata. Un sole ardente scaldava i cristalli, e, malgrado le tende di tela grigia, il calore cadeva nell'aria immobile. Di tanto in tanto un alito fresco saliva dal pavimento che i garzoni innaffiavano con un sottile filo d'acqua. C'era una sonnolenza, una siesta d'estate nel vuoto dei reparti, simili a cappelle, dove, dopo l'ultima messa, l'ombra avanza come dormendo. I venditori stavano dritti, insonnoliti, e qualche rara cliente passava per le gallerie e attraversava la sala col passo strascicato delle donne a cui il sole dannoia. Mentre Denise scendeva, Favier stava misurando una stoffa di seta leggera, a poire rosa, per Madame Butarelle, che era arrivata la mattina prima. Fin dai primi del mese, le province qualcosa mandavano. Non si vedevano che signore goffamente vestite, scialli gialli e sottane verdi, ma i commessi, indifferenti, non ridevano nemmeno più. Favier accompagnò la butarella alla merceria, e tornato disse a Houten, ieri tutte alverniate, oggi tutte provenzali, non ne posso più. Ma Houten si precipitò avanti. Toccava a lui quella volta, ed aveva riconosciuta la bella signora, quella stupenda, bionda che tutti designavano così nel reparto, non sapendo come si chiamasse. Le sorridevano tutti, e non passava una settimana, che non venisse al paradiso, sempre sola. Quel giorno aveva invece con sé un bambino di quattro o cinque anni. Ci fecero su mille pettegolezzi. Dunque è maritata, disse Favier, quando Houten tornò dalla cassa dove aveva condotto la signora a pagare trenta metri di raso. Può essere, rispose Houten, ma il bambino non prova nulla. Chissà che non sia ad una sua amica. Quel che è certo è che deve aver pianto. Aveva certi occhi rossi ed era seria seria. Per un momento stettero muti a guardare vagamente nella profondità del magazzino. Poi Favier riprese con voce lenta. Se è maritata, chissà che il marito non le abbia dato degli schiaffi. Chi lo sa, rispose Houten. O forse è un amante che l'ha piantata. E concluse dopo un'altra pausa. Io, per me, me ne infischio. In quel momento, Denise attraversava il reparto, andando più ad agio e guardandosi intorno per vedere se c'era Rubinot. Non lo vide. Andò alla biancheria e tornò indietro. Ma i due commessi si erano accorti dell'astuzia. Rieccola, l'ha disossata, sussurrò Houten. Cerca Rubinot, rispose Favier. Chissà cosa tramano insieme. Niente di male, di sicuro, perché Rubinot è troppo stupido in queste cose. Dico che l'abbia procurato un lavoretto, delle cravattine. Eh, un affarone. Houten pensò a una delle sue cattiverie. Quando Denise gli passò davanti, la fermò dicendole, cercate me. Lei si fece rossa rossa. Da quella sera di Joanville non osava più leggere nel suo cuore, nel quale si mischiavano sentimenti confusi. Lo aveva sempre davanti agli occhi, con quella ragazza dei capelli rossi. E se tremava ancora quando gli si trovava in faccia, forse era per ripugnanza. Gli aveva voluto bene? Gliene voleva sempre? Non ci voleva pensare, perché il pensarci le faceva male. No, rispose un tantino impacciata. Allora Houten, divertendosi per quell'imbarazzo, se lo volete vedere, vi si dà subito. Favier, dai un po' di robinò alla signorina. Lei lo guardò fissa, con lo sguardo triste e calmo col quale accoglieva le allusioni e le ingiurie delle compagne. Ah, dunque era cattivo. Anche lui la tormentava come gli altri e si sentì nell'animo un supremo strappo, l'ultimo legame che si rompeva. Le si dipinse sul viso una sofferenza tale che Favier, per quanto fosse poco tenero di natura, venne in suo soccorso. Rubinò ora non c'è, ma tornerà di sicuro per la colazione. Oggi, se gli volete parlare, lo troverete. Denise ringraziò e tornò al suo reparto dove Madame Aurelie l'aspettava freddamente rabbiosa. Come? Mezz'ora ci aveva messo. E di dove veniva? Dal laboratorio? No, di certo. La ragazza chinava il capo e pensava a quell'accanimento della sfortuna contro di lei. Se Rubinò non tornava, era finita. Ma bisognava cercare di riscendere giù. Il ritorno di Rubinò aveva nel reparto delle sete scatenato una rivoluzione. Tutti speravano che non tornasse, per le tante noie che creava continuamente. E c'era stato davvero un momento in cui, sempre incalzato da Bensard, che gli voleva affibbiare il suo negozio, era stato quasi per prenderlo. La mina che Utena aveva a poco a poco posta sotto i suoi piedi stava finalmente per scoppiare. Durante il suo permesso aveva fatto di tutto, stando al suo posto come supplente, per nuocergli nell'animo dei capi e rubargli il posto con eccessi di zelo. Aveva segnalate delle piccole irregolarità. Proposto miglioramenti e nuovi disegni. Dal principiante entrato alla pari fino al direttore, che voleva divenire un po' padrone anche lui, tutti non avevano che un pensiero fisso, mandar via il compagno che stava più in alto e per prenderne il posto. E questo scontro di desideri, questo cercare di passarsi avanti, era parte necessaria della grande macchina, perché rendeva più svelta la vendita e quadruplicava la buona fortuna del magazzino. Dietro Houten c'era Favier, dietro Favier gli altri in fila. Si sentiva quasi un rumore di mascelle. Robineau era a belle condannato e ciascuno già ne portava via un pezzo d'osso. Per questo, quando invece tornò, fu un brontolio generale. Bisognava farla finita. I commessi erano minacciosi, tanto che il capo, per dare alla direzione il tempo di prendere posizione, aveva mandato Robineau a fare delle compere. «Piuttosto ce ne andiamo se tengono lui», dichiarava Houten. La cosa dava fastidio a Butemont, che con la sua placidità non poteva vivere col diavolo in casa. Ci soffriva a vedersi intorno soltanto visi scontenti, e poi voleva essere giusto. «Via, via, lasciatelo un po' stare. Che vi fa lui?» Ma rispondevano in coro «Come? Non ci fa nulla. Un uomo che non si può sopportare. Uno che ha sempre i nervi, e che è tanto superbo da non badare a passare sopra il nostro corpo». Era questa la grande arma del reparto. Robineau, nervoso come una donna, era permaloso e aveva scatti intollerabili. Raccontavano venti aneddoti. Un giovanotto che si era ammalato per colpa sua, delle signore che si erano offese per le sue osservazioni. «Ma insomma», disse Butemont, «non voglio prendere la cosa su di me. Ho avvertito la direzione, e quanto prima mi chiameranno per parlarne un po'. Suonava per la seconda tavola. La campanella, lontana e affievolita nell'aria morta del magazzino, mandava il suo rintocco dal sotterraneo. Houten e Favier scesero. Da tutti i reparti i commessi arrivavano ad uno ad uno, un po' alla volta, affrettandosi nel corridoio della cucina, angusto ed umido, illuminato sempre dal gas. Vi si affollavano, senza ridere né ciarlare, in mezzo all'acciottolio crescente dei piatti e nel forte odore delle vivande. Poi, arrivati in fondo, si fermavano a un tratto davanti a uno sportello, in mezzo a due montagne di piatti, con dei cucchiaioni che ficcavano i pentoloni di rame. Un cuoco vi distribuiva le porzioni. E, quando si tirava un po' da parte, dietro alla sua pancia col grembiule, si vedeva la cucina fiammeggiante. «Bella roba», sussurrò Houten, dando un'occhiata a una lavagna sopra lo sportello dove era segnata la lista dei cibi. «Manzo con salsa piccante o razza? Mai un po' di arrosto in questa stamberga! Si resta con lo stomaco vuoto, con tutta la loro carne e il loro pesce!» Del resto, il pesce nessuno lo voleva. E il recipiente restava pieno. Con tutto ciò, Favier scelse la razza. Dopo lui, Houten si chinò dicendo «carne con la salsa». Quasi meccanicamente, il cuoco infilzò un pezzetto di carne e ci versò sopra una cucchiaiata di salsa, e Houten, mezzo soffocato dall'aver avuto in viso il soffio ardente che veniva dallo sportello, se ne stava andando con la sua porzione, che già alle sue spalle suonavano come litanie le parole «carne con salsa piccante», «carne con la salsa piccante». E il cuoco seguitava infilzare pezzetti e versarvi la salsa col moto rapido e regolare di un orologio. «È fredda questa razza», disse Favier, che non si sentiva scaldare la mano. Seguitavano ora tutti ad andare col braccio teso, il piatto in equilibrio, con una gran paura ad urtarsi. Dieci passi più in là c'era un altro sportello con un banco di stagno lucido, dove stavano in ordine le boccette del vino, piccole, senza tappo, umide ancora dalla risciacquatura, e ciascuno nel passare riceveva la sua. Poi, sempre più impacciato, andava al suo posto, cercando serio serio di mantenere l'equilibrio. Huten borbuttava tra i denti. «Bella passeggiata con questa roba in mano!» La tavola sua e di Favier era in fondo, nell'ultima stanza. Tutte le stanze si rassomigliavano, essendo tutte delle antiche cantine larghe cinque metri e lunghe quattro, che erano state intonacate e ammobiliate dal refettorio. Ma l'umido screpolava i muri, che, dipinti di giallo, erano pieni di macchie verdastre, e dalle strette aperture che davano sulla strada all'altezza dei marciapiedi, veniva giù una luce livida, attraversata ogni tanto dalle ombre indistinte di chi passava. Luglio o dicembre che fosse, vi si soffocava in quella umidità calda, grave di odori nauseabondi, soffiati dalla cucina lì accanto. Huten, intanto, era entrato per primo. Sulla tavola, incastrata da una parte nel muro e tutta coperta di tela incerata, non verrano che i bicchieri e le posate posto per posto. Una pila di piatti si alzavano di qua e di là, nel mezzo un grosso pane con un coltello conficcato vi dentro, fino al manico. Huten posò la bottiglia e il piatto. Poi, dopo aver preso il suo tovagliolo dallo scaffale, che era l'unico ornamento dei muri, si mise a sedere con un sospiro. Che fame che ho! C'è proprio da levarsela! Sempre così, disse Favier, che stava alla sua sinistra. Quando si ha fame, non c'è mai nulla. Via via arrivava gente e pigliava posto alla tavola, apparecchiata per ventidue. Da principio, un gran rumore di forchette e di mascelle. Con tredici ore di fatica ogni giorno, quei pezzi di giovanotti si sentivano cascare lo stomaco. Era robaccia, lo dicevano tutti, ma intanto strofinavano i piatti, tanto da grattare la vernice. Quando era stato messo sul magazzino, i commessi, avendo un'ora per far colazione, potevano andare a prendere un caffè fuori, e perciò si sbrigavano in venti minuti per la fretta di uscire. Ma la direzione, notato che restavano troppo distratti dalla vendita, aveva deciso di non farli più uscire. Chi voleva il caffè doveva pagare lì tre soldi, e ora naturalmente non avevano più fretta. E la tiravano per le lunghe, non importandogli nulla di tornare nel reparto prima dell'ora fissata. Molti, mentre ingoiavano grossi bocconi, leggevano un giornale, piegato e appoggiato alla boccetta. Altri, placata la prima fame, si mettevano a discorrere ad alta voce, tornando sempre agli stessi discorsi, quel che avevano guadagnato, quel che avevano fatto la domenica passata, quel che volevano fare la domenica prossima. «Dite un po'. E il vostro robino?» domandò un commesso a Houten. La battaglia di quelli delle sete contro l'aiuto dava da chiacchierare a tutti i reparti. Ogni giorno, fino a mezzanotte, la cosa era dibattuta nel caffè Sun Rock. Houten, che era tutto affaticato dal tagliare e masticare la sua porzione, si contentò di rispondere «Rubino, è tornato!» e sfogandosi a un tratto «Ma Dio santo, mi hanno dato somaro a me invece che manzo?» «È una porcheria, parola d'onore, non si può andare avanti così, è una vera porcheria!» «Non vi lamentate tanto!» disse Favier. «Ed io che ho fatto la sciocchezza di pigliare la razza! È perfino andata male!» Parlavano tutti e due insieme, un po' arrabbiandosi e un po' ridendo. In un cantuccio della tavola, accanto al muro, Deloche mangiava zitto zitto. Non ne poteva più dalla fame e non se la levava mai. E siccome guadagnava tanto poco che non poteva pagarsi qualche altra cosa, si tagliava delle fette di pane enormi e ingogliava i piatti meno appetitosi come se fossero ghiottoneria. Per questo era il divertimento di tutti. Gli urlavano «Favier, passa un po' la tua razza a Deloche! A lui piace così!» «Dategli anche la vostra carne, Oten! Deloche la vuole per rifarsi la bocca!» Il povero diavolo alzava le spalle e non rispondeva nemmeno. Se moriva di fame non era colpa sua. E poi gli altri avevano un bello sputare sulle vivande. Finivano sempre col mangiarle anche loro. Ma un leggero fischio li fece zittire, era il segno che Mure e Bordoncle erano comparsi nell'andito. Da qualche giorno i lamenti degli impiegati erano divenuti tali che la direzione fingeva di voler giudicare da sé se il vitto era buono o no. Non davano al cuoco ogni giorno che un franco e mezzo a testa. E il cuoco doveva con quel franco e mezzo pensare a tutto. Vitto, carbone, gas, servizio. Quando la roba non era buona, i direttori pareva che cascassero dalle nuvole. Anche quella mattina tutti i reparti avevano delegato un commesso e Mignot e Leonard avevano preso loro l'incombenza di parlare a nome di tutti. Così, in quel silenzio improvviso, le orecchie si tesero per sentire le voci della stanza accanto dove Mure e Bordoncle erano entrati. Bordoncle diceva che il manzo era squisito e Mignot, sbalordito da quell'affermazione, buttata là con tanta faccia tosta, provava a ripetere «Ma l'assaggi!». Leonard, invece, insisteva sulla razza e diceva dolcemente «Puzza! Creda pure che puzza!». Allora Mure profuse parole piene di cuore, perché i suoi impiegati stessero bene avrebbe fatto di tutto. Era come un padre per loro. Piuttosto che saperli nutriti male, avrebbe preferito mangiare lui solo pane. «Vi prometto di pensarci e di provvedere», concluse alzando la voce per essere sentito da un capo all'altro dell'andito. L'inchiesta era bella e finita e il rumore delle forchette ricominciò. Utem mormorava «Già, già, c'è proprio da farci affidamento!». Le belle parole non gli mancano, ma le chiacchiere non fanno farina. E intanto ci danno da mangiare delle suole da scarpe e ci scaraventano sull'astrico con un calcio, tale quale come si fa con i cani». Il solito commesso gli ridomandò «Dite un po'. Robino, dunque?». Ma un grande acciattolio di piatti coprì la sua voce. I commessi si cambiavano il piatto da sé. Le due pile a destra e sinistra diminuivano. Uno sguattero portava dei grandi vassoi di latta e Utem esclamò «Ci mancava anche questa! Ecco lo sformato di riso!». «Quado e soldi di colla», aggiunse Favier mentre si serviva. Ad alcuni piaceva, agli altri pareva troppo appiccicoso. Qualcuno poi se ne stava zitto zitto, tutto assorto nel suo giornale, senza nemmeno accorgersi di quel che mangiava. Tutti si asciugavano la fronte, la stretta cantina si riempiva di vapori rossastri e le ombre di quelli che passavano nella via correvano continuamente come strisce nere, sulla tavola tutta in disordine. «Pane a Deloche!» urlò un burlone. Ciascuno si tagliava la propria fetta e poi rificcava il coltello nella crosta fino al manico e il pane seguitava a girare. «Chi vuol barattare questo riso con la frutta?» domandò Utem. Quando ebbe fatto l'affare con un giovanotto gracile-gracile, cercava di dar via anche il vino, ma nessuno lo volle, tanto era cattivo. «Robinot, dunque, è tornato», continuò a dire tra le risate e i discorsi che si incrociavano. «Ah, è un affare grave il suo! Figuratevi che corrompe le ragazze! Già, le corrompe a cravattine!» «Zitto!» sussurrò Favier. «Gli fanno il processo proprio in questo momento!» E con la coda dell'occhio accennò a Utemont che camminava su e giù per l'andito tra Muray e Bordoncle. Tutti e tre pensierosi e parlandosi a voce bassa vivacemente. La stanza dei capi e degli aiuti era per l'appunto di fronte. Quando Utemont aveva visto passare Muray, si era alzato da tavola, avendo finito in quel punto, e raccontava le seccature che gli dava il suo reparto e come non sapesse che fare. Gli altri due stavano a sentire, non disposti ancora a mandar via Robinot, che era valentissimo e stava nel magazzino fin dal tempo della Edouin. Ma quando udì la storia delle famose cravattine, Bordoncle andò su tutte le furie. «Ma che era diventato pazzo cercare lui lavoro alle ragazze! Il magazzino lo pagava anche troppo, il tempo delle ragazze. Se lavoravano la notte per conto loro, il giorno lavoravano meno al banco per forza, dunque rubavano. Rischiavano la salute che non era più loro, ma del padrone. No, no, la notte è fatta per dormire. Dovevano dormire o andarsene!» «Si riscaldano», osservò Utem. Ogni volta che i tre uomini nel loro lento camminare su e giù passavano davanti alla stanza, i commessi stavano attenti a commentare il più piccolo gesto. Avevano perfino dimenticato lo sformato di riso nel quale un cassiere aveva trovato un fagiolo. «Ho sentito dire «cravatta», disse Fabier. «Eh, avete visto, il naso di Bordoncle è diventato un tratto bianco bianco». Mouret era indignato, non meno del socio. Una ragazza che si riduceva a lavorare la notte. Gli pareva un'offesa contro lo stesso ordinamento del paradiso. Ma chi era quella sciocchiarella che non riusciva ad andare avanti con gli utili della vendita? Quando però Boutemont gli ebbe nominata Denise, mutò tono e cominciò a scusarla. «Ah, quella ragazza! Povera figliola!» Sicuro? Non era troppo svelta a vendere e poi doveva mantenere qualcuno a quel che dicevano. Bordoncle l'interruppe, affermando che bisognava mandarla via su due piedi. Era troppo brutta. Non avrebbero cavato mai nulla di buono e pareva che nel dir ciò sfogasse un rancore. Per questo si stizi davvero quando Mouret, non sapendo più che dire, finse di mettersi a ridere. Ma Dio santo, che uomo severo! Non si poteva perdonare per una volta. Era meglio chiamare la colpevole e farle una buona lavata di capo. La colpa in fide conti l'aveva Robinot, che era pratico del magazzino, non avrebbe dovuto farsi suo complice. «Oh questa! Il padrone ride ora!» disse Favie meravigliato mentre i tre ripassavano davanti alla porta. «Ah, per pacco!» proruppe Houten. «Se si ostinano ad appiopparci da capo Robinot, vedranno che scene». Bordoncle, sul punto di uscire dai gangheri, guardava in faccia Mouret, ma si contentò poi d'un gesto disprezzo, come per dire che aveva capito tutto e che era una stupidaggine. Boutemont aveva ricominciato i suoi lamenti. I commessi minacciavano d'andarsene, e ce ne erano di eccellenti. Ma parve che più di ogni altra accusa facesse effetto quella che Robinot se la intendeva col Gougion, il quale, secondo la voce che correva, gli offriva crediti larghissimi, purché si stabilisse per conto proprio nel quartiere e facesse la guerra al paradiso delle signore. Rimasero zitti per un momento. Ah, dunque Robinot voleva la battaglia. Mouret era divenuto serio. Finse che non gliene importasse nulla ed esitò a decidersi, come se la cosa avesse poca importanza. Vedessero un po' loro e gli parlassero. E si mise subito a scherzare con Boutemont, di cui il padre, giunto due giorni prima dalla sua botteguccia di Montpellier, aveva corso il rischio che gli venisse un accidente nel vedere tra l'indignato e lo stupefatto la sala enorme dove regnava suo figlio. Non la finivano più di ridere del povero uomo che, rimettendosi dopo un po', aveva cominciato con la sua sfacciataggine da meridionale a dir male di tutto e a sostenere che le novità in quel modo sarebbero andate a finire sui banchetti. «Eccolo, Robinot», sussurrò il capo della sezione. «L'avevo mandato a far certe compere per evitare qualche guaio che può nascere, purtroppo da un momento all'altro. Scusatemi se ci torno su, ma le cose sono arrivate a tal punto che una decisione bisogna prenderla!». Robinot tornava da fuori, passò infatti per mettersi a tavola e salutò. Mure si contentò di ripetere «Sta bene, si vedrà». Se ne andarono. Utene e Favier li aspettavano ancora, ma quando non li videro più ricomparire, si sfogarono. I direttori dunque volevano anche scendere così a contar loro ogni volta i bocconi? Sarebbe stato un bel lavoro se nemmeno quando mangiavano avessero potuto avere un po' di libertà. La verità era che avevano visto ritornare Robinot e il buon umore del padrone li metteva in dubbio sulla buona riuscita della battaglia incominciata. Abbassarono la voce e studiarono nuovi modi per tormentare Robinot. «Ma io crepo!» continuò Utene più forte. «Quando si esce da tavola sa più fame di prima!» Aveva già mangiate due porzioni di marmellata, la sua e quella che aveva avuto in cambio dello sformato. «Oh!» disse un tratto. «Io per me mi compro qualche altra cosa!» «Vittorio! Dell'altra marmellata!» Il garzone finiva di distribuirla. Poi portò il caffè. Quelli che lo volevano gli davano subito i tre soldi. Qualcuno se n'era già andato e passeggiava per il corridoio cercando gli angoli per fumare in pace una sigaretta. Gli altri restavano sonnacchiosi davanti alla tavola piena di piatti sudici. Facevano delle palline di pane tornando sempre agli stessi discorsi in quel puzzo di mangiare che non sentivano più e nel caldo da stufa che faceva a loro rosse le orecchie. I muri trasudavano. Dalla volta ammuffita cadeva una lenta asfissia. Deloche, appoggiato al muro, inseppato di pane, digeriva tranquillamente con gli occhi fissi sull'apertura che dava sulla strada. Tutti i giorni era quello il suo divertimento dopo colazione. Guardare i piedi di quelli che passavano svelti svelti lungo il muro. Piedi piatti, scarponi, scarpe eleganti, stivaletti da donna. Un via vai continuo di piedi viventi senza corpo né testa. I giorni di fango erano un vero sudiciume. Ma come? Di già! Una campanella suonò in fondo all'andito. Bisognava lasciare il posto alla terza tavola. I garzoni venivano con secchi d'acqua tiepida e grandi spugne e lavavano l'incerato. Le stanze si svuotavano poco a poco e i commessi tornavano ai loro reparti, salendo lentamente le scale. In cucina il cuoco si era rimesso al suo posto dietro allo sportello tra i pentoloni di razza, di carne e di salsa, belle e pronto a riempire un'altra volta i piatti col suo moto regolare da orologio. Mentre Euthen e Favier venivano su, piano piano, videro Denise che scendeva. «Robinot è tornato, signorina», disse Euthen con cortesia canzonatrice. «È ancora a tavola», aggiunse l'altro. «Ma se avete fretta potete entrare». Denise seguitava a scendere senza né rispondere né voltarsi, ma quando passò davanti alla stanza da pranzo dei capi e degli aiuti, non poteva fare a meno di gettarvi un'occhiata. Robino c'era davvero. Avrebbe cercato di parlargli dopo e si affrettò attraverso l'andito per andare alla sua tavola, che era in fondo. Le donne mangiavano da sole in due stanze riservate. Denise entrò nella prima, che era anche quella un'antica cantina adattata al refettorio, ma con un po' più di decenza. Sulla tavola ovale, che era in mezzo, le quindici posate non si vedevano tanto fitte e il vino stava dentro bocce. Ai due capi due vassoi, uno di carne con la salsa piccante, l'altro di razza. Un garzone col grembiule bianco serviva alle signore che non erano obbligate a pigliarsi da sé le porzioni allo sportello. La direzione aveva ordinato così per maggior ordine. «Avete dunque fatto tutto il giro?» domandò Pauline, che era già a sedere e si tagliava il pane. «Sì», rispose Denise, arrossendo. «Accompagnavo una cliente». Era una bugia. Claire diede una gomitata a una ragazza accanto. «Che diavolo aveva la sciattona?» Quel giorno ne faceva di tutte. Aveva cominciato con ricevere lettere dell'amante. Poi si era messa a correre su e giù per il magazzino come una pazza, con la scusa del laboratorio, dove non era nemmeno andata. Chissà che pasticcio era. Allora Claire, pur seguitando a mangiare la sua razza allegramente come una che in altri tempi aveva mangiato di peggio, cominciò a dire d'un fatto terribile, di cui tutti i giornali parlavano. «L'avete letto di quell'uomo che ha tagliato la testa alla sua amante con un rasoio?» «Toh!» osservò una ragazzina col viso dolce e delicato. «L'aveva trovata con un altro». «Ha fatto bene». Ma Pauline saltò su. «Questa è bella! Sta a sentire che se non si vuole più bene a uno, lui può venire a tagliarci il collo. Ah, questo? Poi no!» E interrompendosi, si volse al garzone. «Pierre, questa carne io non la posso mandar giù. Fatemi fare una frittatina. È poco cotta, eh?» Per aspettarla tirò fuori di tasca delle pasticche di cioccolata. Aveva sempre qualche ghiottoneria con sé e cominciò a rosicchiarle col pane. «Sicuro? Un uomo così non mi piacerebbe!» riprese Claire. «Eppure ce ne sono tanti di gelosi! Anche ieri l'altro un operaio fece fare alla moglie un bel volo dalla finestra. Non levava gli occhi di dosso a Denise. Credeva ad aver indovinato vedendola impallidire. Non c'era dubbio. Quella santa rellina aveva una gran paura di essere schiaffeggiata dall'amante cui faceva le corna di sicuro. Sarebbe stato un bel caso se lui l'avesse inseguita per il magazzino come pareva che ella temesse. Ma, di discorso in discorso, una ragazza dava ora una ricetta per far raddrizzare il velluto. Poi parlarono di un'operetta al teatro della Gaite, dove c'erano degli amorini di bambine che ballavano meglio delle grandi. Pauline, divenuta seria per un momento per la sua frittata, che le pareva troppo cotta, tornava allegra sentendo che invece era assai buona. «Datemi un po' di vino», disse a Denise. «Dovreste anche voi ordinare una frittata». «La carne mi basta», rispose lei, che per non spendere nemmeno un soldo si contentava del vitto del magazzino per quanto le ripugnasse. Quando il garzone portò lo sformato di riso, le ragazze protestarono. Anche la settimana scorsa lo avevano lasciato e speravano che non tornasse più. Denise, senza pensarci, turbata da quelle storie di Claire per via di Jeanne, fu la sola che ne mangiasse, e tutte la guardavano come se facesse disgusto. Si sfogarono a spese loro con la marmellata. Era del resto elegante mangiare a proprie spese. «I commessi...» «E sì, sapete», disse la ragazzina delicata. «Si sono lamentati e la direzione ha promesso...» Ci fu uno scroscio di risate. Non parlarono più che della direzione. «Non ce n'era una che non pigliasse caffè, eccetto Denise, la quale non lo poteva soffrire», diceva lei. «E stavano lì con la loro tazzina davanti, quelle delle biancherie vestite di lana come semplici borghesi, quelle dell'abbigliamento vestite di seta, col tovagliolo sotto il mento per non insodiciarsi. Parevano, signore, che fossero scesi in cucina a mangiare con le cameriere. Avevano aperto la finestra per dare un po' d'aria e mandar via quell'afe e quel puzzo, ma bisogna richiuderla subito, perché le ruote delle carrozze pareva che passassero sulla tavola. «Zitte!» disse Pauline. «Ecco quella bestiaccia!» Era Jouvet. Girava volentieri attorno a quelle ragazze quando finivano di mangiare. Non c'era nulla da dire, perché toccava a lui sorvegliare quelle due stanze. Con gli occhi sorridenti entrava e faceva il giro delle tavole. Qualche volta si metteva perfino a discorrere domandando se avevano mangiato bene. Ma tutte scappavano via subito per non essere seccate. Per quanto non fosse ancora suonata l'ora, Claire fu la prima ad andarsene e altre le andarono dietro. In breve non restarono che Pauline e Denise. Pauline, finito il suo caffè, dava fondo ai cioccolatini. «Toh!» disse ad un tratto alzandosi. «Voglio mandare qualcuno a comprare delle arance. Venite anche voi?» «Fra poco», rispose Denise, che rosicchiava una crossa di pane tanto per restare l'ultima e per poter parlare a Rubinot nel tornare su. Ma quando si trovò sola con Jouvet, capì di aver fatto male e dispiaciuta si alzò. Mentre lei si volgeva verso l'uscio, costui le sbarrò la strada. «Signorina!» Dritto in faccia a lei aveva preso un'aria paterna. I suoi mustacchi grigi, i capelli corti e ritti gli davano l'aspetto di un onesto soldato e metteva in fuori il petto col nastrino rosso. «Che desiderate?» chiese lei rassegnata. «Anche stamane vi ho sorpresa lassù, che parlavate dietro i tappeti. Voi sapete che è proibito e se facessi il rapporto...» «Ma dunque vi vuol proprio bene la vostra Polina!» I mustacchi gli si mossero. Una fiamma fece ardente il suo naso enorme, naso curvo e spugnoso che rivelava bramosie da toro. «Ma dunque, perché vi volete tanto bene tutte e due?» Denise non capiva, ma era turbata. Le si avvicinava troppo e le parlava sul viso. «È vero, si discorreva a Messie Jouvet», balbettò lei. «Ma che mare c'è a far due chiacchiere? Voi però siete tanto buono con me che devo ringraziarvi lo stesso». «Non dovrei mai essere tanto buono! La giustizia? Vedete, la giustizia? Ma quando una è carina, come voi!» E si avvicinava ancora. Allora lei ebbe proprio paura. Quel che le aveva detto Polin le tornava in mente. Si ricordava delle storielle che correvano di certe ragazze che compravano la benevolenza di Jouvet avendone paura. Nel magazzino del resto si contentava di poco. Accarezzava coi suoi ditoni grassi le gote delle ragazze compiacenti, pigliava loro le mani e le teneva nelle sue quasi distrattamente. Erano in fondo cose paterne. Il toro non lo sguinzagliava che fuori, quando qualcuna accettava le fettine di pane col burro in casa sua. «Lasciatemi andare», mormorò la ragazza andando indietro. «Via, via! Non fate tanto la cattiva con me che ho sempre dei riguardi per voi. Siate buona. Venite stasera a insuppare una fettina di pane in un po' di tè». «Alla buona, eh?» Ma lei ora si dibatteva. «No! No!» La stanza era sempre vuota. Il garzone non tornava più. Jouvet, stando attento al rumore dei passi, diede un'occhiata rapida intorno e, fuori di sé, oltrepassando la sua paterna familiarità, cercò di darle un bacio sul collo. «Berbantella! Bestiolina, con quei capelli come si fa a essere tanto sciocca!» «Venite stasera!» Si ride un po'. Ma lei, piena di terrore, sentendosi vicino quel viso ardente di cui sentiva l'alito, pareva pazza. Di colpo gli diede uno spintone con tanta forza che Jouvet barcollò e stette per cadere sulla tavola. Per fortuna c'era lì una seggiola, ma nell'urto il vino che era rimasto in fondo a un bicchiere schizzò fuori e lì macchiò la cravatta bianca bagnando anche la decorazione. Rimase lì, senza nemmeno asciugarsi, soffocato dalla rabbia per tanta villania. Quell'uscita non se l'aspettava, c'era andato tanto con le buone e lei si rivoltava in quel modo. «Non sono io se non te la faccio scontare!» Denise era scappata via. In quel momento suonava la campanella e in quella confusione, tremando ancora, non pensò più a Robin Hood e ritornò al reparto. Dopo non ebbe più il coraggio di tornare giù. La facciata dalla parte di Place Gaillon, esposta al sole dopo mezzogiorno, ardeva addirittura e nelle sale del mezzanino, malgrado le tende di tela grigia, ci si scoppiava dal caldo. Vennero delle clienti, ma fecero sudare le ragazze senza comprare nulla. Tutte sbadigliavano sotto i grandi occhi sonnolenti di Madame Aurelie. Finalmente, verso le tre, Denise, vedendo che la direttrice si stava addormentando, prese la porta zitta zitta e si rimise a correre per il magazzino con la sua aria spaventata. Per imbrogliare i curiosi che la potevano seguire con gli occhi, non scese subito alle sette. Prima parve che andasse alle trine, vi fermò Deloche e gli domandò qualcosa, poi a pian terreno, attraverso le tele dipinte, e stava per entrare nel reparto delle cravate quando lo stupore la fermò di botto. Jeanne le si parava davanti. «Ma come? Perché sei venuto qui?» mormorò lei, impallidendo. Aveva addosso il suo camiciotto da lavoro. Aveva la testa nuda con i suoi capelli biondi tutti arruffati, che cadevano sulla pelle da ragazzina. Dritto, innanzi a un'esposizione di cravattine nere, pareva che stesse profondamente meditando. «Che ci fai qui?» ridomandò lei. «To!» rispose. «Aspettavo! Tu non vuoi che ci venga! E per questo sono entrato, ma senza dir nulla a nessuno! Oh! Puoi stare tranquilla! Fingi di non conoscermi, sei padrona!» Dei commessi già li guardavano con curiosità. Jeanne abbassò la voce e, sai, mi ha voluto accompagnare proprio di persona. Già, è lì sulla piazza accanto alla fontana. «Dammi svelta quei quindici franchi o siamo fritti come è vero il sole!» Denise perse la testa. I commessi stavano a sentire e ridevano. Dietro il reparto c'era una porta che dava nel sotterraneo. L'aprì, vi spinse il fratello e lo portò con sé giù. Jeanne ripetè la storiella, non trovando le parole e cercando i fatti, per paura di non esser creduto. «I quattrini non sono mica per lei! È troppo per bene, nemmeno per il marito! Che gliene importa a lui di quindici franchi? Nemmeno per un milione permetterebbe che la moglie... È un fabbricante di colla! Te l'ho detto, eh! Stanno benissimo! No, no, è un birbaccione, un suo amico, un suo amico che ci ha visti. E se non gli do quei quindici franchi stasera... «Cito!» mormorò Denise. «Vieni qua! Spregati!» Erano scesi nell'ufficio di spedizione. La stagione, poco propizia al commercio, addormentava il vasto sotterraneo sotto la pallida luce delle finestrine. C'era fresco. Pareva che dalla volta piovesse un grave silenzio. Un garzone prendeva da uno degli scompartimenti i pochi pacchi per il quartiere della Madeleine. E sulla tavola campion, capo dell'ufficio, se ne stava a sedere con le gambe penzoloni e gli occhi aperti. Jeanne ricominciò. «Il marito ha un coltello! Via, via!» ripetè Denise, seguitando a spingerselo innanzi. Fecero tutto un andito stretto dove il gas sardeva continuamente. A destra e a sinistra, in fondo alle cantine buie, le merci di riserva riempivano di ombre da dietro i cancelli. Finalmente si fermò, appoggiandosi ad uno di quei ripari. Non sarebbe venuto nessuno, di sicuro, ma era proibito, e ella si sentiva un brivido per le ossa. «Se quel birbaccione fa la spia!» riprese a dire Jeanne. «Il marito ha un coltellone!» «Ma dove vuoi che li pigli io quindici franchi?» esclamò Denise, disperata. «Non vuoi mai mettere giudizio! Ti accadono una dopo l'altra cose tanto strane che...» Jeanne si picchiò con la mano nel petto. Fra tutte quelle invenzioni non sapeva più nemmeno lui la verità. Non faceva che atteggiare a dramma e i suoi appetiti. In fondo c'era sempre qualche urgente necessità. «Su quel che ho di più sacro! Questa volta poi è proprio vero! Io la tenevo così e lei mi abbracciava!» Dovette farlo calmare un'altra volta e, non potendone più, perseguitate in quel modo da tutti, proruppe... «Non voglio sapere nulla. La tua cattiva condotta tienila per te. Sono cose troppo brutte, capisci? E tu non la smetti mai di tormentarmi a forza di cinque franchi. Già, sto le nottate intera a lavorare e tu rubi, rubi, capisci? Il pane di bocca al tuo fratellino!» Già restava a bocca aperta, fatto così pallido. «Ma come? Erano cose troppo brutte. Non ci capiva più nulla. Aveva sempre trattata la sorella come un buon compagno e gli pareva naturale sfogarsi con lei. Ma quel che più lo meravigliava era che lei lavorasse la notte. Il pensiero che egli la uccideva e che mangiava il pane di Pepe lo commosse così forte che si mise a piangere. «Hai ragione, hai ragione, sono un infame! Ma non sono cose brutte, no! Anzi, sono belle, sono tanto belle che non si può fare a meno di ricominciare! Lei, vedi, ha vent'anni suonati e credeva di poter scherzare perché io ne ho soltanto diciassette! Dio mio, come sono furioso contro di me! Ora mi darei degli schiaffi!» Le aveva preso le mani e le baciava bagnandole di lacrime. «Dammi quindici franchi e ti giuro che sarà l'ultima! Ma no, no, non mi dare nulla! È meglio che io muoia! Se il marito mi ammazza, almeno non avrai più questo pensiero!» Ma vedendo piangere anche lei, ebbe un rimorso. «E poi, chi lo sa, può anche essere che non ammazzi nessuno! Ci accomoderemo in qualche modo, sorellina mia, te lo prometto! Via, via! Addio! Me ne vado!» Ma un rumore di passi, in fondo all'andito, li turbò. Lei lo prese e lo tirò con forza verso il cancellino, in un angolino d'ombra. Per qualche secondo non sentirono che il sibilo d'un becco a gas accanto a loro. Poi i passi si fecero più vicini, e Denise, allungando la testa, riconobbe Jouvet che era entrato col portamento inamidato nell'andito. Passava per caso? O qualche altro sorvegliante fermo alla porta l'aveva avvertito? Fu presa da un tale spavento che, non sapendo più che fare, cacciò Jean fuori dalle tenebre, dove erano nascosti, e se lo spinse innanzi sussurrandogli «Va via! Va via!» Tutti e due correvano a più non posso, e si sentivano dietro le spalle il fiato grosso di Jouvet che correva anche lui. Riattraversarono l'ufficio di spedizione e giunsero in fondo alla scala che dava in rue de la Michaudière. «Va via! Va via!» ripeteva Denise. «Se posso ti manderò i quindici franchi a ogni modo!» Jean sbalordito scappò. L'ispettore, scalmanato, non vide arrivando che il camiciotto bianco e i riccioli biondi sommossi dal vento della strada. Riprese fiato per ritrovare la sua gravità. Aveva una cravatta bianca nuova-nuova, presa al reparto della biancheria, con un fiocco larghissimo che splendeva come neve. «Brava! Brava davvero!» disse poi con le labbra che tremavano. «Brava! Proprio brava! Se sperate che io tolleri nel sotterraneo queste sudicerie! Oh, sbagliate, ve lo dico io!» eseguitava a dire brava, mentre lei risaliva al magazzino tanto frastornata che non poteva pronunciare una parola di difesa. Ora si disperava di essere scappata in quel modo. Non avrebbe potuto scusarsi e mostrare suo fratello. Chissà che cosa si sarebbero immaginati. Nessuno, per quanto lei giurasse, le avrebbe creduto. Anche quella volta si scordò di Robinot e ritornò al reparto. Juvet, senza aspettare altro, era corso alla direzione per fare il suo rapporto, ma il garazzone di servizio gli disse che il direttore era con Bourdoncle e con Robinot e discorrevano da un quarto d'ora. La porta era socchiusa. Si sentiva Mouret domandare di buon umore al commesso se aveva passato bene le vacanze. Di mandarlo via non se ne parlava. La conversazione si aggirava invece su certi provvedimenti che bisognava prendere nel reparto. «Volete qualcosa, monsieur Juvet?» disse ad alta voce Mouret. «Entrate, entrate!» Ma un istinto trattenne l'ispettore. Vide uscire Bourdoncle e raccontò tutto a lui. Passo passo vennero insieme lungo la galleria degli scialli, l'uno parlando chinato a voce bassissima, l'altro ascoltando senza che una linea del suo volto severo desse a vedere quel che pensava. «Va bene», disse alla fine, e siccome erano arrivati all'abbigliamento, entrò. Proprio allora madame Orelis si scatenava contro Denise. Ma da dove veniva? Quella volta non poteva dire d'essere stata al laboratorio. Era un continuo andare e venire, e in quel modo là non si poteva andare avanti. «Madame Orelis?» disse Bourdoncle. Si era deciso di tagliar lui in nodo, perché aveva paura che Mouret si impietosisse. La direttrice venne avanti e tutta la storia fu raccontata di nuovo a voce bassa. Le ragazze aspettavano impazienti, fiutando una catastrofe. Finalmente madame Orelis si voltò solennemente. «Mademoiselle Denise!» E sul suo viso da imperatore si impresse la inesorabile immobilità dell'onnipotenza. «Andate alla cassa!» La terribile frase suonò forte nel reparto allora vuoto di clienti. Denise era rimasta dritta e bianca come un cencio lavato, senza un respiro. Poi balbettò delle parole. «Io? Io? Ma perché? Che ho fatto io?» Bourdoncle rispose duramente che nessuno lo sapeva meglio di lei e che avrebbe fatto meglio a non chiedere spiegazioni. Accennò alle cravate e aggiunse che sarebbe stato a far serio se tutte le ragazze fossero andate in quel modo nel sotterraneo a parlare con gli amanti. «Ma era mio fratello!» Urlò lei, con la collera dolorosa ad una vergine cui si faccia violenza. Marguerite e Claire si misero a ridere. Perfino la Frédéric, tanto discreta di solito, crollò la testa con un'aria incredula. «Sempre quel fratello!» Era un po' troppo. Via! Allora Denise li guardò tutti. Bourdoncle, che fin dal primo giorno non ne voleva sapere. Jouvet, che era rimasto lì a far testimonianza e che non le avrebbe certo resa giustizia. Poi le ragazze, che non le era riuscito a disarmare con nove mesi di coraggio sorridente ed erano ora tutte contente di vederla andare via, sospinta da loro stesse. A che però combattere? Perché volersi imporre se nessuno le voleva bene? E se ne andò, senza aggiungere una parola. Non diede nemmeno un'ultima occhiata a quella stanza dove aveva sofferto tanto. Ma appena fu sola, davanti alla ringhiera della gran corte, un'angoscia più viva le strinse il cuore. Nessuno le voleva bene e il pensiero improvviso di Mouret le toglieva tutta la sua rassegnazione. No, no, non poteva rassegnarsi ad essere mandata via così. Anche lui ci avrebbe forse creduto a quella turpe storiella, a quell'appuntamento con un uomo in fondo al sotterraneo. A quell'idea, una gran vergogna la salì, un'angoscia di cui non aveva mai fino allora sofferta la strinse. Voleva andarlo a trovare, gli avrebbe spiegate le cose, soltanto perché sapesse come stavano veramente. Poi per lei sarebbe stato lo stesso, andarsene o no, e la sua vecchia paura, il brivido che davanti a lui l'accoglieva, divenne a un tratto un bisogno ardente di vederlo, di non andar via prima d'avergli giurato che non si era data a un altro. Erano quasi le cinque. Il magazzino ripigliava un po' di vita nell'aria più fresca della sera. Risolutamente si avviò verso la direzione, ma quando fu davanti alla porta dello studio fu di nuovo presa da una disperata tristezza. La lingua non le si scioglieva, tutto il peso dell'esistenza le ricadeva sulle spalle. Anche Mouret non le avrebbe creduto, anche lui avrebbe riso come gli altri, e questa paura la fece quasi svenire, tutto era finito. Meglio per lei era star sola, scomparire, morire, e senza nemmeno raccontare ciò che era avvenuto a Polino Adeloche, andò di filata alla cassa. Signorina, disse l'impiegato, voi dovete avere 22 giornate. Sono 18 franchi e 70, più 7 franchi di utili sulla vendita. Sta bene? Sì, grazie. E Denise se ne andava col suo denaro quando finalmente si imbatte in Rubinò. Sapeva di già che la avevano mandata via e le promise di trovare la donna delle cravate. A bassa voce la consolava e insieme la riscaldava. Che vita! Vedersi sempre sul punto di essere licenziati per un capriccio. Essere licenziati da un momento all'altro senza poter nemmeno avere lo stipendio intero del mese. Denise salì ad avvertire la cabina, che in serata avrebbe cercato di mandare a pigliare la valigetta. Suonavano le 5 quando si trovò sul marciapiede di Prasgayon, sbalordita, in mezzo alle carrozze e alla gente. La sera stessa, mentre rientrava in casa, Rubinò ricevette una lettera della direzione che in cinque righe l'avvertiva come per ragione di servizio fossero nella dura necessità di privarsi della sua opera. Erano sette anni che stava nel magazzino. E quel giorno stesso aveva discorso con quei signori. Fu come un'ammazzata sul capo. Utene e Favier cantavano vittoria alle sete come Margherita e Claire trionfavano ai vestiti belle e fatti. Bel colpo era stato. Ci voleva di tanto in tanto un po' di granata. Soltanto Delosce e Pauline, quando si incontravano nel via vai dei reparti, si scambiavano qualche parola addolorata, ripiangendo Denise tanto buona e tanto onesta. «Ah!» diceva il giovanotto. «Se le riuscisse di farsi largo in qualche altro posto, vorrei che tornasse qui a schiacciarle tutte, questo è poco di buono!» Toccò a Bordoncre sopportare in questo affare l'urto violento di Muret. Quando questi seppe che avevano mandata via Denise, andò su tutte le furie. Di solito non si occupava mai degli impiegati, ma questa volta finse di fiutare una ribellione, un tentativo di sottrarsi alla sua autorità. Dunque il padrone non era più lui? Osavano dare ordini? Tutto doveva passare sotto i suoi occhi. Tutto. E voleva spezzare come un fil di paglia chiunque li resistesse. Poi, quando ebbe cercato per conto suo la verità, si arrabbiò più che mai. La ragazza non aveva mentito. Quel giovane era proprio suo fratello. L'aveva riconosciuto campion. E allora perché mandarla via? Parlò perfino di riprenderla. Ma Bourdoncle, forte nella sua resistenza, sapeva piegarsi sotto la tempesta e studiava Muret. Finalmente, un giorno che lo vide più tranquillo, osò dirgli con un certo tono di voce «E' meglio per tutti che se ne sia andata». Muret non trovò lì per lì una risposta e si fece rosso nel viso. «Chissà», rispose ridendo, «che non abbiate ragione. Andiamo a vedere come vanno le cose. Non c'è malaccio, pare. Ieri si sono fatti quasi centomila franchi». Capitolo VII Per un momento, Denise rimase sbalordita sul marciapiede, nel sole ancora ardente delle cinque. Luglio scaldava le vie, e Parigi scintillava nella luce estiva piena di accecanti riflessi. E la disgrazia le era cascata addosso così improvvisa, l'avevano cacciata via da un momento all'altro con tanta crudeltà, che voltava e rivoltava in fondo alla tasca i suoi 25 franchi e 70 senza accorgersene e non sapendo che fare e dove andare. Una fila di carrozze le impediva di scendere dal marciapiede del paradiso. Quando poté arrischiarsi, attroversò Place Gaillon, come se volesse andare in rue Louis-le-Grand. Poi si pentì e si avviò verso rue Saint-Roch, ma non sapeva dove andare, e così si fermò all'angolo di rue Neuve-de-Petit-Champs, dove alla fine si inoltrò.